La settimana sport siamo con Matteo Bottini della Cogornese. Allora Matteo, una sconfitta che brucia, però direi che siete una bella squadra e ve la giocherete fino alla fine con la Cogornese, scusami, con la Caperanese e con il Pieve che oggi ha pareggiato ed è in testa, cioè è da un punto da voi in classifica. Sì, sicuramente c'è rammarico perché eravamo sopra e non abbiamo gestito benissimo il vantaggio. Penso che un pareggio poteva starci, però alla fine sono stati bravi loro a crederci fino alla fine. Noi forse abbiamo avuto qualche occasione che potevamo sputtare meglio. e quindi niente, ora tre punti vanno loro, però comunque il campionato è lungo e speriamo di ripartire già dalla prossima con il piede giusto. Vabbè dai, nonostante la sconfitta chiudete il campionato del Gironese andata in testa ed è una bella soddisfazione per la vostra squadra. Assolutamente, ora non è una partita che manderà, che adesso sicuramente ripartiremo, quindi abbiamo fatto un bel giro d'andata e già dalla prossima ripartiamo forte. Va bene dai, forza con il Gornese, ciao. Grazie, salve.